Che sport fatti? Tennis tavolo e scherma. Tennis tavolo e handbike. E del rugby in serie di rotelle vi interessa giocare? Sì, non abbiamo provato ancora a giocare, però penso che sia qualcosa di interessante. Luca se l'è capata bene. Abbiamo visto due velocità, lento e fermo. Mi dispiace per la vostra disabilezza, ma per consolarvi io conosco uno senza esofago, senza reni, anzi ha un rene ma è quello di suo cugino e anche senza orecchie, per consolarvi. Manca la carrozzina. Sì. Manca la carrozzina, sì. E allora non è uguale a noi. No, no, no. Non ha neanche il tagliando del parcheggio. Se non ha il tagliando non è disabile. Dimmi una roba pietosa che ti hanno detto proprio. In gamba. Già, sì, in gamba. In gamba, spesso. Disabile, non normodotato, non deambulante sui piedi. Qual è il termine più fastidioso che avete sentito fino ad adesso? Anticappati. Quello è più fastidioso? Sì, sì. Uguale. Quello meno fastidioso? Figo. Sì, figo. Allora, dimmi una cattiveria, dai. Dimmi una cattiveria sulla mia mano. Sulla tua mano? Sì. Quella buona? Quella buona. Perché l'altra... L'altra va bene. Potrebbe essere una nona di categoria ping pong. Nona? Sì. No, ma c'è la 11. Ma quelle sono mentali? Infatti. Ah, ecco, ho capito. Basta, c'è chiude. Minchia, c'è chiude con tre dita il massimo. Jack. No... 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 Grazie a tutti.